Un'ambulanza in meno a Modica dalle originarie due situate nelle sedi di via Loreto a Modica Alta in via Portogallo nel quartiere Sorda, adesso la città ne ha a disposizione solo una. Il problema si è verificato già ad inizio estate quando il mezzo è stato condotto a Marina di Modica per coprire le necessità della popolazione marinara durante il periodo estivo. Ma da qualche giorno anche la frazione balneare si ritrova privata del servizio perché l'ambulanza è stata trasferita a Pozzallo dove a causa di un guasto manca un mezzo del 118. Un disservizio grave per il capogruppo consigliere del PDL Luigi Carpensano che denuncia la carenza dei mezzi in una città che conta più di 50.000 abitanti e dove l'ambulanza dichiara è medicalizzata solo dalle 8 del mattino fino alle 20. L'unica ambulanza a disposizione dispone del medico a bordo soltanto nelle ore giornaliere dalle 8 del mattino alle 20 e poi di notte il medico non c'è. Quindi capiamo che il problema diventa anche più grave quando un cittadino ha bisogno di un intervento urgente di notte perché il medico sull'ambulanza non c'è. Io chiedo in maniera forte al sindaco che è la massima autorità cittadina in materia sanitaria di intervenire in maniera decisa nei confronti del direttore del 118 di Catania, nei confronti del direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale per risolvere una volta per tutto questo problema. Grazie a tutti. Grazie a tutti.